benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di telestense tante le notizie anche oggi tra le sportive la spal questo pomeriggio ha pareggiato 1 1 allo stadio mazza pareggiando contro l'empoli ma oggi è stata anche una giornata in cui è stato presentato il nuovo governo draghi all'interno ci sono due ministri ferraresi li conosceremo a breve e poi parleremo anche di vaccinazioni perché da lunedì si parte per le ovvero 85 parte la maxi campagna vaccinale che riguarda tutta la popolazione continueremo poi a seguire quanto per quello che sta riguardando il teatro comunale al centro del dibattito in città ma partiamo parlando appunto di politica a mezzogiorno di sabato i ministri e il neo premier mario draghi hanno giurato a breve faremo un approfondimento intanto però conosciamo i due ferraresi che fanno parte ora dell'esecutivo due ferraresi entrambi del partito democratico fanno ora parte della squadra di mario draghi al governo il copparese patrizio bianchi ex rettore di unife per due mandati ed ex assessore della regione emilia romagna per due legislature e il ministro dell'istruzione bianchi venne chiamato nel maggio scorso a coordinare la task force del ministero della pubblica istruzione per indicare in epoca covid le vie da percorrere per la scuola italiana bianchi da alcuni mesi titolare presso unife della cattedra unesco in educazione crescita uguaglianza ha pubblicato di recente il saggio nello specchio della scuola quale sviluppo per l'italia edito dal mulino l'altro ferrarese voluto da draghi nella squadra di governo e dario franceschini ed è ministro della cultura franceschini politico di lungo corso e ministro uscente ormai un veterano in questo ruolo ma il ministero del turismo è stato scorporato dal ministero dei beni culturali di cui era titolare franceschini nel governo conte 2 il ministero specifico con portafoglio del turismo infatti va a leghista massimo garabaglia è il primo giorno quindi del nuovo governo chiamato a rispondere alle sfide della vaccinazione di massa come misura chiave di contrasto al covid anche tra le sfide recovery plan oggi 23 ministri insieme al presidente del consiglio hanno prestato giuramento davanti al presidente della repubblica tutti visibilmente emozionati in qualche caso incespicando sulla tradizionale formula del giuramento sono 23 ministri del governo draghi che hanno giurato oggi fedeltà alla repubblica otto sono le donne 15 gli uomini così come otto sono i ministri cosiddetti tecnici e 15 politici di cui 9 del governo uscente confermati anche se con deleghe diverse i 15 ministri politici rappresentano sei partiti secondo diverse criteri di distribuzione in particolare quattro sono del movimento 5 stelle tre del partito democratico tra della lega tra di forza italia uno di italia viva uno di leo alcuni dei 23 sono molto noti altri meno impareremo conoscere di cammin facendo anche se la nostra curiosità oggi è tirata soprattutto dai ministri tecnici tutti con una carriera importante alle spalle in vari settori della vita pubblica in istituzioni economiche giuridiche nazionali e internazionali quasi tutti con un passato accademico alcuni direttamente provenienti da università italiane come cristina messa ex rettore di milano vicocca e patrizio bianchi ex rettore dell'università di ferrara fra gli otto luciana lamorgese già prefetto di milano è stata confermata la guida del viminale alcuni vantano precedenti esperienze di governo come ricco giovannini oggi all'infrastruttura trasporti ministro del governo oletta daniele franco nuovo ministro dell'economia è stato per sei anni a giugna generale dello stato fra gli esordienti roberto cingolani nuovo ministro per la transizione ecologica uno dei due super ministeri voluti da mario draghi e milanese guru della robotica dell'intelligenza artificiale vittorio colao bresciano ministro dell'innovazione e transizione digitale secondo ministero voluto da mario draghi ex amministratore delegato di vodafone ex numero uno della task force messa in campo per la ricostruzione marta cartabbia ministro della giustizia nata san giorgio su legnano sposata tra i figli professore ordinario di diritto costituzionale nel settembre 2011 nominata dal presidente della repubblica giudice della corte costituzionale di cui è diventata prima vicepresidente poi presidente ha insegnato presso numerose università italiane e straniere ha ricoperto molti incarichi istituzionali in europa tra questi l'agenzia dei diritti fondamentali dell'unione europea a vienna la commissione europea per la democrazia attraverso il diritto enrico giovannini romano nell'attuale governo ministro dei trasporti è un economista statistico e accademico attualmente portavoce dell'alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile di cui è co fondatore è stato come dicevamo ministro del lavoro e le politiche sociali nel governo letta e oggi professore ordinario di statistica economica all'università di roma travergata cristina messa nuovo ministro dell'università subentra all'uscente gretano manfredi è stata rettore dell'università di milano bicocca attualmente ricopre la carica di presidente della fondazione tecnomet sempre presso la stessa università milanese patrizio bianchi subentra al ministero dell'istruzione lucire assolina di lui sappiamo così tutto proprio perché ferrarese infine roberto garofani super magistrato già capo di gabinetto del mef è il nuovo sottosegretario alla presidenza del consiglio del governo draghi nato a taranto ha due figli è laureato in giurisprudenza è stato magistrato ordinario fino al 1999 impegnato in processi anche di mafia ha ricoperto diversi incarichi istituzionali fra questi è stato sottosegretario generale della presidenza del consiglio dei ministri e presidente della commissione per l'elaborazione di misure di contrasto anche patrimoniale alla criminalità del governo letta cronaca adesso denunciati due giovani bolognesi di 26 e 21 anni con precedenti con la giustizia che avrebbero minacciato e palpeggiato una capotreno ieri sera sul regionale venezia bologna la capotreno ha chiesto l'intervento della polizia intervento che inoltre provocato un ritardo della corsa di 30 minuti i due si erano rifiutati di esibire i biglietti di viaggio e poi avrebbero molestato appunto la capotreno e un altro episodio di cronaca che però ci porta a cento dove è stata rapinata della borsetta una donna i carabinieri però stanno indagando sulla vicenda è successo giovedì sera dove appunto una 32enne sarebbe stata picchiata violentemente da un uomo tanto da finire al pronto soccorso secondo gli investigatori l'uomo e la donna si conoscevano e ora i militari sono sulle tracce appunto dell'uomo violento e adesso però dobbiamo parlare di emergenza coronavirus perché la vaccinazione sta per entrare nel vivo dopo il personale sanitario e gli ospiti delle cra parte lunedì anche nel ferrarese la possibilità di prenotarsi per farsi vaccinare le prime dosi saranno poi somministrate da martedì prossimo si parte da chi ha più di 85 anni sentiamo lunedì 15 febbraio in emilia romagna partono le prenotazioni per vaccinare gli over 85 dunque i nati nel 1936 o negli anni precedenti con le prime somministrazioni in programma il giorno successivo martedì 16 dal primo marzo sarà poi la volta dei nati tra il 1937 e il 1941 quindi coloro che hanno dagli 80 agli 84 anni i nostri grandi anziani sono sicuramente tra le categorie che hanno pagato il prezzo più alto della pandemia dice l'assessore regionale alle politiche per la salute raffaele ed è per questo che vengono vaccinati subito dopo il personale sanitario delle rsa e dei genti delle strutture è possibile prenotare andando agli sportelli o nelle farmacie con cup oppure attraverso il fascicolo sanitario elettronico l'app er salute o il cup web il cup di ferrara sarà aperto il lunedì e mercoledì in via straordinaria anche in orario pomeridiano dalle 14 30 alle 16 30 e solo per le prenotazioni dei vaccini anti covid per vaccinarsi non serve la prescrizione medica bastano i dati anagrafici nome cognome date comune di nascita o il codice fiscale le sedi in cui si effettuano le vaccinazioni da martedì prossimo nel ferrarese saranno la casa della salute cittadella san rocco nel settore 19 dell'ex ospedale in corso giovecca in provincia invece saranno le case della salute di coparo di comacchio di porto maggiore bondeno oltre che negli ospedali del delta di lago santo di cento e di argenta nessun decesso intanto per probabili complicazioni apportate da coronavirus e continua il calo dei nuovi positivi sono confortanti alcuni dei numeri odierni del bollettino covid nel ferrarese sentiamo dopo le sette vittime di venerdì nessun decesso registrato nel ferrarese per probabili complicazioni apportate da covid anche nel ravennate non si registra nessuna vittima ma a livello regionale si registrano 36 nuovi decessi tra gli emiliano romagnoli intanto se torniamo nella zona del ferrarese le ospedali estensi respirano continua ad allentarsi la pressione sui reparti covid sul territorio infatti ci sono altre due buone notizie continua il calo dei nuovi positivi in termini assoluti 55 i ferrarese a cui è stato riscontrato il coronavirus solo nove di questi presentavano sintomi e il numero dei nuovi guariti supera il numero dei nuovi positivi nello stesso lasso di tempo 59 le persone che non hanno più il virus cala leggermente anche in emilia romagna il numero dei nuovi positivi tra un giorno e l'altro e cala anche il tasso di incidenza dei nuovi positivi sui tamponi effettuati ora al 5,1 per cento i guariti in regione 2880 e continua il calo dei casi attivi in emilia romagna meno 1428 cronaca adesso sono fioccate le multe ieri sera a ferrara da parte della polizia nei confronti di chi era fuori casa dopo il coprifuoco che scatta alle ore 22 otto sanzioni da 400 euro l'una per altrettante persone quattro tra i 20 e i 30 anni sono stati ritrovati a passeggiare in via palestro vicino piazza ariostea qua vediamo delle immagini odierne di giorno ovviamente ma è avvenuto di dotte tutto questo perché appunto il coprifuoco iniziale 22 uno di questi giovani era anche ritenuto ubriaco dalla polizia e per questo è stato multato la giustificazione per cui era fuori è stata questa eravamo stanchi di stare in casa avrebbero riferito agli agenti altre tre persone venivano fermate e controllate in piena notte in centro sempre ieri senza fornire motivi validi per essere fuori casa un altro ferrarese invece è stato sanzionato sempre dalla polizia per non avere la mascherina dichiarando appunto che non servisse a nulla per tutti questi lo ripetiamo sono stati 400 euro a testa le multe combinate dalla polizia e adesso parliamo di piccola media industria perché è intervenuto il vice sindaco di ferrara che ha incontrato le rappresentanze delle associazioni di categoria per fare il punto sulla sicurezza e ci sono diversi piani sul tavolo per tentare di fermare questo fenomeno appunto dei furti notturni nella piccola media industria ferrarese un progetto di vigilanza privata che comprenda tutta l'area sinergie attive con la polizia più telecamere capaci di leggere le targhe individuare le auto rubate e un'illuminazione rinnovata sono queste le soluzioni proposte alle associazioni di categorie ferraresi dal vice sindaco e assessore alla sicurezza del comune di ferrara nicola lodi che ha incontrato in settimana in streaming i rappresentanti delle imprese dell'area pmi ascom confartigianato cna confindustria lega cop la situazione dell'area dei furti notturni non può più essere tollerata sottolineato lodi che nei giorni scorsi sostiene di aver già affrontato il tema con il questore di ferrara cesare capocasa sarebbero stati effettuati specifici sopralluoghi spiega il vice sindaco tre le soluzioni individuate la prima riguarda il potenziamento la condivisione dei progetti di vigilanza attualmente ogni azienda provvede la propria vigilanza affrontando spese a volte importanti se la si facesse in maniera sinergica sostengono dal comune l'azione di controllo sarebbe più efficiente in previsione ci sarebbe anche l'installazione di nuove telecamere di sorveglianza anche in questo caso con un progetto mirato ad integrare la sorveglianza che già esiste con una logica di efficienza per quanto riguarda l'illuminazione invece nel quadro complessivo dei lavori di miglioramento dell'illuminazione dedicata alla città era dovrebbe completare entro l'anno la sostituzione di tutti i punti luce della zona e parliamo adesso di un dibattito che sta andando avanti da giorni nel ferrarese ed è quello riguardante il teatro comunale abbado sono stato chiamato a ferrara con un contratto che parte da maggio 2020 per avviare un'attività di produzione teatrale che al teatro comunale mancava dai tempi di abbado così marcello corvino che vedete in foto e il coauditore artistico del teatro comunale di ferrare interviene così appunto ai microfoni di telestense per chiarire il suo ruolo svolto a tutt'oggi per il teatro comunale sentiamolo uno dei problemi che ho dovuto affrontare è stato quello del c'è un teatro che fa poche alzate di sipario fa ospitalità ma non fa produzione e che ospita con dei costi troppo alti quindi la necessità di produrre in proprio viene incontro alla necessità di aumentare le alzate di sipario cioè gli spettacoli che vengono ospitati abbassare i costi perché una cosa è acquistare dall'esterno una cosa è realizzare dal dall'interno e poi soprattutto venire anche ad una richiesta di di questa amministrazione cioè ferrara è una città importante che produce artisti che produce cultura quindi bisogna valorizzare questo grande patrimonio e possibilmente portarlo in giro questo è l'obiettivo che mi sono dato dall'inizio che ho messo subito a disposizione della fondazione e che metterò a disposizione del della nuova gestione di di questo teatro tanti gli spettacoli prodotti durante l'estate l'autunno scorso ma già numerosi quelli in programma per il futuro dice corvino sempre nella logica di valorizzare le eccellenze artistiche locali contenere i costi attraverso le coproduzioni con altri teatri soprattutto dell'Emilia Romagna portare il nome di ferrara le sue produzioni culturali fuori dalle mura cittadine La prima produzione è stata il musical Jekyll and Hyde dove abbiamo coinvolto l'orchestra città di Ferrara e elementi di eccellenza del conservatorio fresco baldi abbiamo fatto questa produzione coinvolgendo eccellenze della nostra città puntando anche sui giovani questa produzione ha reso possibile una cosa che non si faceva più da tantissimo tempo cioè tenere aperto il teatro anche d'estate il teatro a maggio finiva le sue produzioni e le sue ospitalità riapriva ad ottobre invece noi abbiamo tenuto aperto il teatro tutta l'estate innestando una novità abbiamo fatto la resurrezione di Heindel che poi è stato oggetto di un documentario della RAI tra le eccellenze italiane musicali che ripartivano dopo la pandemia siamo stati gli unici in Italia a fare un musical con orchestra poi abbiamo fatto un'altra opera di Donizetti l'Elisir d'Amore a settembre cercando dei giovanissimi che interpretassero questi ruoli abbiamo fatto audizione quindi abbiamo lanciato una giovanissima cantante di 18 anni e i protagonisti comunque non superavano i 25 anni abbiamo fatto un'attività che ci ha consentito di rendicontare al Ministero e Regione il 100% dell'attività operistica nell'anno del Covid che non è poco e alla domanda se sarà lui il futuro direttore artistico del Teatro Comunale Abbado ecco come risponde io penso che continuerò ad occuparmi esattamente di questi aspetti che hanno a che fare con la capacità produttiva del teatro sono ruoli che sono scoperti all'interno dei teatri di tradizione e anche dei teatri d'opera non c'è la figura del produttore che coordina la capacità produttiva che propone ad altri teatri quello che di buono viene fatto qui che valorizza le risorse locali e appunto mettendole sul mercato della cultura quindi se il Presidente e il Direttore Generale saranno d'accordo io continuerò ad occuparmi esattamente di questo Sport adesso Spal che oggi nel pomeriggio ha pareggiato 1-1 contro l'Empoli la capolista Esposito ha risposto con un gol su rigore alla rete di Mancuso Spal che è anche sfiorato poi il 2-1 a pochi minuti dalla fine quindi è stata una partita con luci e ombre quella dei biancozzuri che comunque hanno tenuto testa appunto alla capolista per sapere la cronaca della partita vi invito ad andare sulla pagina Facebook di Telestese Sport dove Alessandro Sovrani fa il punto dopo questo pomeriggio di calcio anche nei prossimi telegiornali poi ne torneremo a parlare poi vi ricordo sempre l'appuntamento televisivo con Lunedì Sport per gli approfondimenti della partita prima però di salutarci e vediamo insieme queste immagini perché a Ferrara c'è chi ha festeggiato San Valentino in anticipo questa mattina tutti i donatori di sangue del centro prelievi di Corso Giovecca hanno ricevuto un omaggio in occasione della festa degli innamorati offerto da Avis Ferrara in collaborazione con Coldiretti nonostante la giornata fredda sono stati molti donatori che si sono recati nella sede Avis e che hanno potuto ricevere un regalo per celebrare al meglio questa ricorrenza, una primula colorata appunto è stato il regalo bene con queste immagini chiudiamo qua questa edizione del telegiornale io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata grazie a tutti